Quando sono le donne a fare la prima mossa, agli uomini piacciono le donne che fanno la prima mossa? Wow 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 wow, certo che agli uomini piacciono le donne che fanno la prima mossa, anzi se voi donne non avete mai provato a fare la prima mossa vi consiglio di farla, perché non solo vi darete una grande emozione, ma darete emozione all'uomo che vi piace o che vi interessa. Gli uomini non sono abituati alle donne che fanno la prima mossa, soprattutto se si tratta di uomini di qualità, di uomini magari un po' timidi e di uomini che ovviamente non frequentano donnacce. Fare la prima mossa non vuol dire fare loca, non vuol dire fare la prima mossa in modo volgare, fare la prima mossa vuol dire avvicinarsi all'uomo che ti piace, che ti interessa e fare la prima mossa tu. Quindi una prima mossa per una prima conoscenza, è possibile anche fare una prima mossa da donna facendo un complimento ad un uomo o una battuta, ovviamente l'uomo che vi piace. Gli uomini non sono abituati e vi assicuro che fare la prima mossa da donne verso un uomo è un valore aggiunto. Tutte le donne dovrebbero provare almeno una volta nella vita a fare la prima mossa con l'uomo che vi piace, vi consiglio di farlo con gli uomini timidi e non fatela con i belloni, non fatela con i playboy, fatela con quelli più timidi, quelli che probabilmente non si avvicinerebbero facilmente a voi. Se a voi piace un uomo sappiate fare la prima mossa, manderete un uomo in un brodo di giuggele, alzerete la loro, la sua autostima, ma nello stesso tempo si alzerà anche la vostra autostima, perché una donna che si rispetti è una donna che è in grado di fare anche lei solo la prima mossa. Ok? Ciao a tutti. Iscrivetevi al canale dell'amore, quello di amore psiche con la pink.